Benvenuti, benvenuti cari amici, siamo BTC su un nuovo video. Naturalmente come sempre ricordo di subito, di like, di iscrivervi il canale, iscrivervi anche il canale di Telegram. Oggi andrò a vedere un importante aggiornamento per quanto riguarda Bitcoins 99, perché questa pre-sella sembra essere imminente, letteralmente il lancio. Vi ricordo che la pre-sella andrà a concludersi domani alle ore 9.30 e il lancio avrà sui DEX l'8 agosto alle ore 10 del mattino. Per cui andiamo a vedere il tutto per quanto riguarda questa pre-sale e per cui iniziamo subito. Ed eccoci qui, andiamo a vedere questo importantissimo aggiornamento per quanto riguarda Bitcoins 99. Io come sempre vi lascio sotto il link in descrizione, ok, se volete andare a vedere questo progetto. Ma vi comunico che la pre-sale andrà a finire domani 6 agosto, ok, che è alle 9.30 di mattina, quindi insomma non c'è ancora tanto tempo. E poi il listing sarà il 8 agosto a partire dalle ore 10 sempre di mattina. Sembra essere stato confermato. Andrò a vedere anche poi quelle che sono le principali notizie per quanto riguarda Bitcoin 99. Vi ricordo che se cliccate sotto il link che trovate in descrizione, che cosa succederà? Potete acquistare questa pre-sale attraverso o rete Ethereum, ok, o attraverso carta, oppure attraverso USDT. Per esempio, non so, inserisco l'importo di 100 dollari e vi darà 86.206 Bitcoins 99. Attualmente il prezzo di un Bitcoin 99 è pari a 0.00116, quindi insomma un prezzo ancora molto basso. E potrebbe essere interessante soprattutto in ottica speculativa, ok, andrò a vedere poi anche come tendenzialmente è il grafico, ok, di queste pre-sale. Finora sono stati raccolti 2.6 milioni di dollari, quindi insomma una cifra tale che ha garantito quello che sarà il futuro listing. Questo è quello che hanno comunicato loro. Dopo, salvo ritardi, salvo cose, ora c'è stato anche un bel dump di Bitcoin, però sembrerebbe che ha confermato il listing il 8 agosto alle ore 10. Andiamo a vedere anche un po' quello che è l'oro sito. Vi ricordo comunque il prezzo, io avevo fatto un video anche circa una settimana fa, era di 1.1.5, quindi comunque il prezzo è aumentato di circa un, non tantissimo, che è circa un 2%, però insomma è interessante anche andare a considerare queste cose. Comunque il prezzo secondo me è ancora interessante, soprattutto in ottica speculativa. Dopo, che vediamo qui sopra, vi danno anche la possibilità di staking, 6.62%, però ve l'ho sempre detto a me lo staking non piace. Praticamente qui è possibile capire un po' quello che è il progetto. Quindi cosa vediamo all'interno di questo progetto? Loro vogliono costruire una grande community nel quale praticamente vogliono formare quelle che sono dentro le persone e ci si potrà formare gratis. Quindi semplicemente detenendo il token bitcoins99 sarà possibile formarsi, studiare e sarà un token formato sul BRC20, ok? Su questa blockchain, nuova blockchain, che praticamente gira su, potremmo definirla, la nuova rete di bitcoin, ok? Un po' qui riassumendo. E vedete che qui daranno vita a corsi interattivi, crypto, dopodiché ha rewards nel token, ok? Bitcoin99, quindi praticamente voi andrete a ricevere rewards ulteriori se detenete, ok, il token, avrete anche dei signal e-trading, a meno che mica di sta cosa però questo è il progetto, e infine sarà possibile anche apprendere maggiormente su quella che è la nuova blockchain che potenzialmente, secondo me anche in bull market, si andrà a fermare che è quella del BRC20. Quindi insomma, dal mio punto di vista, veramente interessante, ok, come progetto, dal punto di vista teorico, poi vedremo in pratica se riusciranno a andarlo a mettere in pratica. A me piace sempre le pressioni inutiche speculative, dopo ognuno veda lui, ok? Che di solito dopo arriva il dump, quindi è un classico, io già vi avviso, bisogna essere là pronti, ok? Eventualmente l'8 agosto alle ore 10, col pulsante sell, perché soprattutto si fa gain, secondo me interessante, dopo eventualmente considerare anche delle dip, no? Se ci saranno. Quindi questa, io la vedo così come strategia. Dopodiché, tokenmetrics, abbiamo 99 miliardi di token, ok, è il momento, di cui il 10.50% per le press sale, il 14% per lo staking, 27.50% per il project funds, 17% per le community rewards, 8% per la liquidity, e infine un 23% per quanto riguarda il marketing. Dopodiché abbiamo anche roadmap, roadmap insomma, una classica roadmap, come possiamo vedere, dove praticamente loro vogliono dare prima fase, ok, il Q2 che praticamente abbiamo vissuto, lancia pre-sale, quindi la situazione attuale, e a partire dall'8 agosto sarà possibile clamare la pre-sale, quindi voi da vostro portafoglio metamask andrete a ricevere i token, saranno listati, ok, sul DEX, e dopodiché potrete letteralmente tradarli. Questo sarà un po' il terzo quarter, e costruzione anche della piattaforma, ok, dove imparare, ok, a formarsi. Dopodiché, quarto quarter, listing sui checks, quindi vogliamo arrivare sui checks, vedremo se effettivamente arriveranno sui checks, perché tradire il pare c'è sempre il mezzo del mare, e infine poi costruzione anche del bridge sulla blockchain via decimente. Quindi insomma, interessante sicuramente come progetto, vedremo se metteranno in pratica quanto detto, e questo in sostanza è il progetto di Bitcoin 99. Dopodiché ci sarà anche possibilità di staking, 656% di API, ok, quindi avrete questa reward poi ripartita eventualmente sui 365 giorni, che dà 2% al giorno, che secondo me è insostenibile, ve lo dico subito, quindi io lo staking assolutamente andrei a evitarlo, ma la vedrei per lo più in ottica speculativa. E dopodiché vediamo anche quella che la, il dono Twitter, che al momento conta quasi 22.000 follower, che non sono affatto pochi, e qui insomma, ultima chance di unirsi, data per l'appunto il 31 luglio, dove vanno a sancire, guardate qui, 6 di agosto finirà la pre-sale alle 9.30, e poi l'8 ci sarà il listing alle ore 10. Quindi insomma, stiamo a vedere, però dovrebbe essere così, e quindi questa era l'informazione che assolutamente volevo portarvi in questo momento, in questa fase di mercato, in quale tutto dumpa, ma magari questa pre-sale, non dico che farà 20x, 10x, però magari può dare comunque rendimenti interessanti in questo momento dove tutto ferma. Dopodiché vi ricordo, anche iscrivetevi al loro gruppo Telegram, ok, se volete per capire, ma di quelle che sono interazioni, che pre-fase di lancio, e molto sarà influenzato anche dai prezzi di Bitcoin, come vedete qui Bitcoin che dump ha avuto, quindi potenzialmente in caso di risk e rockets da parte di Bitcoin, ritengo che anche Bitcoin 99 sarà, insomma, coinvolto dal prezzo di Bitcoin, e vedremo effettivamente se a partire dall'8 agosto, magari Bitcoin apprenderà e partirà portandosi dietro anche, letteralmente, Bitcoin 99. Quindi ti ricordo ancora una volta, se vuoi andare ad acquistare, io ti lascio sotto la link in descrizione, basta insomma andare qui, ti conotti con Metamask, e potrai acquistarlo o attraverso le dettili, o attraverso le WSDT, oppure attraverso carta. E poi che vi è spiegato questo video, ti ricordo di suspegare un like, di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo presto. Hasta la vista... HOMMRE.